Eccoci bentornati, scusate abbiamo avuto come avete visto un piccolo problema tecnico già risolto. Allora, a che punto è la guerra? Direi subito di introdurre la prima degli ospiti, ex ambasciatrice italiana in Svezia e in Belgio, scrittrice, commentatrice di politica internazionale, firma del fatto, Elena Basile. Grazie. Buonasera e grazie. Ma vedo che sta entrando già anche Barbara Spinelli, giornalista europarlamentare è stata europarlamentare e profonda conoscitrice non solo delle istituzioni ma anche delle dinamiche interne al centro-sinistra. Grazie e benvenuta. E allora vado con l'altro ospite, direttore del sito Sicurezza Internazionale, è stato docente di sociologia del terrorismo alla Luisse di Roma e su TV Loft dal 13 settembre con Diventare Terroristi, Alessandro Orsini. E mi dicono di fare anche in questo caso un annuncio di servizio, pare che sia stato perso un casco? Il mio casco, l'unico che gli consentirebbe di tornare a casa con la Vespa. Quindi se qualcuno trova un casco è del professore Orsini. E poi, stato generale di corpo d'armata, capo di stato maggiore del comando Nato per il Sud Europa, a partire dal gennaio 2001 ha guidato il comando Interforze delle operazioni nei Balcani, comandante Nato della missione K4 in Kosovo dal 2002 al 2003, anche lui, firma del Fatto Quotidiano, il generale Fabio Mini. A moderare due firme d'eccellenza sulla politica estera del Fatto, chiamo sul palco la prima di queste due firme, Salvatore Cannavò. E io chiamo a seguire Stefano Citati. Grazie. Grazie, a voi il palco. Salve. Posso fare la prima domanda breve, breve, breve? Certo. Ma Alessandro, scusami, casco o il metto? Ecco, questa è la domanda. In inglese si dice... No, il metto è il mio. Il metto lo può cambiare. Però è un casco bianco, quindi se qualcuno di voi l'avesse trovato, ecco, sarò molto grato. Abbiamo un'ora di tempo per scoprirlo. Esatto, non so dove l'ho lasciato, ma da qualche parte è qui. Bene, allora, buonasera a tutti e tutte, grazie ai nostri ospiti. Quindi, come potete immaginare, chi segue il fatto, chi segue quello che scrivono i nostri interlocutori qui sul palco, questo è un dibattito senza contraddittorio e volutamente senza un contraddittorio perché sono oggi il 563esimo giorno di guerra, un anno e mezzo circa e mi siamo tutti stati abituati a seguire una narrazione, un racconto della guerra tutto unidirezionale, con una sola tesi sempre presente un po' ovunque, tutte le narrazioni televisive, giornalistiche, politiche, parlamentari, diplomatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo assistito a racconti di tutti i tipi, la sacralità della Nato è diventata una sorta di quarta religione di Stato, la guerra russo-ucraina avrebbe dovuto espandersi in Europa e minacciare addirittura Lisbona e il Portogallo, se non fossero stati fermati sul Donbass i russi sarebbero potuti arrivare in Portogallo, anche questo abbiamo ascoltato, eccetera, eccetera, eccetera. Per aver scritto delle cose un po' diverse dall'opinione comune dominante i nostri amici e amiche sono stati insultati in tutti i modi, in tutti i modi possibili da traditori e traditrici della patria, a fiancheggiatori di Putin, agenti segreti, hanno avuto censure e anche pagando prezzi personali molto forti, quindi noi oggi in qualche modo diamo vita a un dibattito che sembra quasi una sorta di legittima difesa e quindi esprimiamo una posizione e delle posizioni ovviamente con delle articolazioni diverse, non siamo mai sempre d'accordo su tutto, ma è questa la funzione fondamentale del fatto quotidiano, ci piace moltissimo pubblicare le idee di tutti e soprattutto quando vengono attaccati dal mainstream e dal pensiero dominante, soprattutto quando si ammanta di liberalismo, beh allora ci fa ancora più piacere, ne pubblichiamo ancora di più, ne vediamo ancora di più, questa è un po' l'idea di fondo. Allora io visto che è il 563esimo giorno di guerra e domani sarà il 564esimo perché non accenna a finire, direi che questa conversazione la possiamo cominciare col generale, per fare un po' il punto della situazione, noi un anno fa noi facciamo già un punto qui alla festa del fatto, è passata molta, sono successe molte cose e devo dire che nell'ultimo periodo è successa soprattutto una cosa, è stata annunciata una grandissima controoffensiva l'Ucraina che avrebbe modificato il tutto e soprattutto avrebbe dimostrato l'utilità di fornire armi a quel paese. Ecco, facciamo un po' il punto della situazione che fino a fatto la controoffensiva, che come sta messa l'offensiva e se lei immagina quali possono essere delle evoluzioni da qui a breve periodo? Il tutto in sette minuti mi hanno detto, per cui... Anche otto? Otto minuti, grazie, è troppo gentile. Buonasera a tutti quanti, fare il punto sulla situazione attuale non è molto difficile, io parto da due cose che non sono vere, la prima è che si tratta di una fase di stallo, non è vero e la seconda è che ci siano le forze in bilico, non è vero. La fase di stallo è apparentemente perché ci sono i russi che questa volta si difendono e hanno le difese ancorate al terreno oltre che fortificate e quindi sta vincendo la difesa e invece le truppe o le forze ucraine che hanno cercato di avanzare, di fare questa grande controoffensiva facendo una serie di errori che è inimmaginabile dal punto di vista tattico e strategico, perché una controoffensiva che si annuncia e poi si svolge su 800 chilometri di fronte, non esiste neanche durante la seconda guerra mondiale, è mai successa una cosa del genere, non c'è Guderian o altro grande carrista del passato che abbia pensato di poter condurre una battaglia corazzata, perché di questo si tratta, di queste battaglie corazzate contro delle difese ancorate al terreno e fortificate in un'apertura non più grande di 4-5 chilometri, qui stiamo parlando di 800 chilometri quindi già si comincia a vedere che stiamo fuori di testa. Non è una situazione in bilico, nel senso che non è una situazione nella quale il lago della bilancia può pendere da un momento all'altro da una parte o dall'altra, no, è una situazione che si sta stabilizzando verso quella che tutti chiamano guerra di usura, quindi guerra lunga e guerra di grande consumo e soprattutto di grande dispendio di vite umane e che andrà avanti così per parecchio tempo se qualcosa non succede. Cosa potrebbe succedere in questo frattempo? Che l'Occidente cominci a dare delle armi molto più efficaci e molto più efficienti che prenda a dare dei missili a lunga gittata e che doti le forze armate ucraine di aerei. È una possibilità ma è talmente vana, è talmente vaga che io ritengo che neanche questo sia qualche cosa che possa far cambiare la situazione attuale. Perché vana? Perché con tutti gli aerei che abbiamo promesso noi, F-16 e quindi già di non eccessiva la tecnologia avanzata. Bene, sono aerei che anche se vengono dati tutti quelli promessi, cosa che non è scontata, non riusciranno di sicuro a mettere in pensiero la difesa aerea russa. Anzi, c'è la difesa aerea russa che fino adesso non è stata quasi mai impegnata, che non aspetta altro che una grande avanzata di armi aeree per incominciare a testare, fra virgolette, tutte le proprie armi contraere e fare veramente massacro. Sul campo, quello che è successo negli ultimi due mesi, in quasi in 40 giorni, è qualcosa di disastroso. Il colonnello americano McGregor, che è uno molto addentro perché è vecchio quasi come me e quindi è un uomo di guerra fredda, ed è un uomo quindi di guerra convenzionale, di guerra combattuta cinetica, si dice, di quella combattuta sul terreno, non è che ha valutato, ha dei dati che portano. Le forze ucraine, a partire dal conflitto, hanno perso 400 mila uomini, tra morti e feriti. Le forze ucraine, le forze russe, secondo lui, non ve lo dico perché è una ridicolaggine, 125 mila, vabbè, ma questo può non stare. Gli ucraini negli ultimi due mesi hanno perso 40-50 mila uomini morti e 40 da 40-50 mila feriti, di cui almeno 30 mila amputati, cioè chirurgicamente, con interventi chirurgici. Gente che non potrà più entrare in combattimento. Gente che andrà a alimentare il grande parco dei reduci di guerra e che andrà anche a incrementare il parco degli orfani e delle vedove di guerra. Il buon McGregor, che ha delle fonti che sono interne al Pentagono, essendo stato lui stesso un assistente del ministro della difesa americano, dice che è una guerra che comunque non solo gli ucraini non possono vincere, ma tutto l'Occidente non può vincere. È una guerra che anche mettendo in campo le forze americane o le forze europee, così come auspica o vorrebbe la nostra vecchia conoscenza Victoria Nuland, ve la ricordate quella del Fuck Europe, quella signora lì, bene, che dirige la parte politica dell'Ucraina. Bene, questa signora in effetti si ostina a dire che non bisogna condurre la guerra fino all'ultimo Ucraino. Dobbiamo intervenire prima noi europei, noi americani dentro la guerra e metterci noi il sangue, così come Zelensky aveva chiesto agli americani, aveva chiesto agli europei. Noi vogliamo che voi mettiate il sangue, lo stesso sangue sul nostro terreno, così come facciamo noi. È una prospettiva che non ha uscita, è una prospettiva nella quale né gli americani né gli europei ci vogliono entrare, non la vede nessuno. E poi anche in questa prospettiva, considerando tutte le forze armate dell'Unione Europea, dell'Europa, della Nato e comprese quelle americane, dal punto di vista di forze terrestri siamo ai minimi termini. L'esercito americano, ed è sparso in tutto il mondo, ha 400.000 soldati su 1.200.000 di forze a disposizione. 400.000. 400.000 sono morti in meno di un anno da parte soltanto ucraina. Stiamo parlando di grandi numeri. Le munizioni che servirebbero per ribaltare sono talmente esorbitanti la capacità di produzione di tutta l'industria europea e della stessa industria americana che non si vede la possibilità, secondo McGregor e lo dico francamente anche secondo me, non si vede nessuna possibilità che la guerra possa essere vinta. La guerra potrà essere soltanto fermata se qualcuno si metterà in testa che c'è qualcosa da cedere. Io ricordo una dei primi trasmissioni, ricordo una... Costituzione! Però prima con Scarpinato avete applaudito quando ha detto Costituzione. No, è una guerra che non... veramente bisogna cedere. Una delle prime miei interventi, neanche molto aggressivi in televisione con Lilly Gruber, ricordo che si trattò proprio di questo, io dissi, erano i primi tempi in cui si parlava che in Bielorussia c'era qualcuno che si poteva accordare qualche cosa. Io ho detto guardate che se ai colloqui e ai negoziati si va soltanto con la lista di quello che si vuole e non si va con la lista di quelli che si è disposto a cedere, non si va da nessuna parte, non c'è tipo di negoziato, non si può fare una cosa di genere. Bene, la Gruber aveva lì in collegamento un tenista ungherese di origine però ucraina che si era in collegamento ed era volontario a partecipare alla guerra, ovviamente da parte ucraina. E allora Lilly Gruber prese al balzo questa pallina e disse, non mi ricordo come si chiamava, Ivan o quello che è, ha detto tu che cosa saresti disposto a cedere? Io dico io mi sono gelato, Beppe Servignini che era lì pendeva dalle labbra, adesso vediamo che cosa è disposto a cedere il tenista. Il tenista è stato, l'ho misurato, 12 secondi senza dire niente, 12 secondi senza dire niente in una trasmissione, in talk show sono un'eternità, non esistono 12 secondi. In questi 12 secondi è dopodiché alzato il volto, l'ha messo nella telecamera, nella cacciavetta e ha detto niente. Io ragazzi, ragazzi per modo di dire del 99, ho allargato le braccia e dico e allora dove andiamo con questo tipo di atteggiamento? Siamo ancora a quel punto, ci sono dei timidi segnali che qualcuno potrebbe essere disposto a cedere, ma non può dirlo. Generale, eravamo qui un anno fa, la rifermo un anno dopo. Un anno dopo. Tanto la rifermo anche l'anno prossimo. Allora, lei è arrivato appunto a dire la questione delle trattative. Diciamo, tra le ultime notizie della parte diplomatica di questo conflitto c'è stato l'attacco anche al Papa che è stato considerato non per la prima volta, probabilmente nemmeno per l'ultima, di parte. Allora, a questo punto io volevo chiedere alla nostra diplomatica che cosa si può, che cosa è stato perso finora e che cosa si può davvero pensare di fare dal punto di vista diplomatico per avviare, non so, percorso di pace mi sembra già troppo da dire, un minimo di filo per una trattativa. Se questa è la situazione. Allora, innanzitutto grazie, posso ringraziare il fatto per l'invito e salutare i relatori che seguo da molto tempo e apprezzo, ma soprattutto volevo ringraziare voi che siete qui perché siete un po' la prova palpabile che non è vero che di certi argomenti si debbano interessare gli esperti, di solito funzionali, a determinati programmi politici. La guerra in Ucraina ci interessa tutti da vicino ed è per questo che anche con questo caldo stiamo qui a discuterne. Credo, e uscirà a breve, me lo confermava Marco, un articolo in cui non solo io ma tanti diplomatici diciamo che il diplomatico ma tutti i professionisti hanno il dovere in un momento in cui c'è una guerra che non è vero che è l'unica guerra europea perché lo sappiamo bene ci sono state le guerre balcaniche ma è per la prima volta una guerra che può degenerare in una major war, cioè si può a un certo punto passare al conflitto nucleare. Allora di fronte a una situazione di questo genere, innanzitutto i parlamenti dovrebbero essere interpellati per le decisioni gravissime che sono presi oggi dai membri della Nato, ma poi tutti i cittadini, i professionisti, a maggior ragione i diplomatici dovrebbero mettere a disposizione del dibattito pubblico nel Paese le loro conoscenze, le loro competenze, a meno che ovviamente non gestiscano proprio il dossier con l'istanza politica e non abbiano quindi da rivelare delle fonti riservate. Scusatemi questa digressione ma ci tenevo a dirlo anche perché in un romanzo, faccio sempre pubblicità a questa mia attività parallela di scrittrice, in un romanzo io ho proprio antelitteram immaginato un contrasto tra un diplomatico che ascolta la propria coscienza individuale e una linea gravissima che viene presa dal potere politico contingente al quale non ha giurato fedeltà, perché il diplomatico giura fedeltà alla Costituzione, ecco come diceva Fabio Meni e che quindi deve in qualche modo barcaminarsi in questa situazione delicatissima, un insolito trio in romanzo. Comunque ora mi dicevano che cosa si può fare, io mi ricordo che due anni fa quando Salvatore Cannavò mi intervistò, già due anni fa, dissi l'unico modo per uscire da questa tensione con la Russia è vedere che cosa c'è sul tavolo e che cosa ci può essere sul tavolo, la neutralità dell'Ucraina e siamo tutti d'accordo che l'Ucraina se fosse una nuova Austria o una nuova Svizzera starebbe come oggi, vogliamo chiederlo alle casalinghe, alle madri che hanno perso i ragazzi in guerra, se li volevano perdere per permettere al loro paese di entrare nella Nato perché poi in fondo se parliamo laicamente di politica internazionale noi dobbiamo pure ammettere al di là del nostro giudizio per il regime clerico fascista di Putin, dobbiamo domandarci quali sono gli interessi contrapposti che oggi sono in gioco e non c'è nulla da fare, c'è un interesse legittimo di sicurezza che l'espansionismo strategico della Nato ha messo in crisi, quindi la prima cosa questa ma ancora prima lo sappiamo bene dal 2014 in poi l'applicazione degli accordi di MISC e quindi l'applicazione di un principio europeo che è quello di proteggere le minoranze linguistiche e regionali, cosa che il governo di Kiev non ha fatto. Io credo che sia molto importante capire le cause di questa guerra, c'è un libro molto bello che ho appena finito di leggere perciò l'ho uscito Salvatore Minolfi, uno storico napoletano che dice che questa guerra è come una matriosca, una bambola russa, ogni volta nasconde una nuova bambola perché ci sono vari livelli che si intersecano, un livello è il nazionalismo russo e il nazionalismo ucraino, si dà all'Ucraina un'identità forte che forse non ha, è sempre stata, si è sempre parlato di tre Ucraini almeno, ma comunque almeno di due, l'Ucraina occidentalizzata e i filorussi ucraini e il nazionalismo russo, questo è il primo livello, il secondo livello deriva da questo e la guerra civile, guerra civile tra filorussi e ucraini nazionalisti nel Donbass, terzo livello è la proxy war, la guerra per procura tra Stati Uniti e Russia, guardate che il congresso bipartisan ha da tempo considerato la Russia come il nemico da indebolire, io devo dire che c'è una coerenza nella strategia americana che magari gli europei avessero, negli anni 90 quando il consigliere di Chirac bussava alla porta di Condoleza Rice e portava la neutralità dell'Ucraina come proposta, Condoleza Rice già la rimandava al mittente, nel 1997 Brzezinski che era stato consigliere di Carter e poi di Clito, in un momento in cui non aveva ruoli, scrisse The Chessboard, la scacchiera internazionale e già allora parlò dell'Ucraina come il black hole, il buco nero attraverso il quale la Russia andava indebolita. Quindi vedete che non ci sono stati solo degli avvenimenti che si sono successi, ma c'è una strategia chiara. Il quarto livello che credo per noi è il più interessante è la rottura della relazione speciale russo-tedesca. La Germania era diventata una spina nel fianco per gli Stati Uniti, Iraq, Libia, ma soprattutto gli interessi energetici. Quando nel 2008 al vertice di Bucharest si dice sì alla apertura della NATO a Georgia e Ucraina, nel 2009 la Germania spiazzata che durante il vertice era stata attaccata, Stammeier era stato attaccato in modo veramente sconvolgente per quello che la Germania rappresentava da Sikorsky, il polacco, nel 2009 cominciano la costruzione del primo gasdotto. Nel 2014 dopo Maidan Square, il colpo di Stato a Maidan Square, il 2015 una Germania sempre più confusa e indebolita lancia il gas stream 2 e ora sappiamo dove sono i gas stream. Quindi ma riuscire a cambiare gli equilibri in Europa, avere una nuova Europa avamposto degli Stati Uniti e una vecchia Europa che abbassa la testa è stato uno degli obiettivi geopolitici. Ma questo non lo invento io. Andate a vedere nel 2003 Rumsfeld quando i giornalisti lo circondano e gli chiedono ma alla guerra in Iraq la Germania dice no, la Germania rifiuta di partecipare. Rumsfeld risponde, che era al tempo segretario alla difesa americana, risponde la Germania. La Germania rappresenta la vecchia Europa e infatti oggi chi domina in Europa è la nuova. La Germania in recessione ha dovuto rinunciare a quel modello che praticamente le aveva permesso alla Germania e tutta l'Europa naturalmente una crescita importante dal 1945 e poi. Il quinto livello è il livello della illusione liberale. Cioè gli Stati Uniti hanno pensato che si poteva fare con la Cina e con la Russia la stessa cosa che era stata fatta con la Germania e con il Giappone. Cioè desovranizzarle e integrarle nell'ordine liberale dove c'era un egemone benevolo, così viene chiamato, o gli Stati Uniti così sono chiamati nella dottrina liberale che avrebbero in qualche modo fatto da gendarme del mondo. E purtroppo questa operazione con la globalizzazione non è riuscita perché la globalizzazione ha portato a una ridistribuzione di potere che è andato a favore delle potenze del surplus e quindi la Germania che ci ha sguazzato in Europa ma Cina e Russia e non era più possibile integrarle. E a questo punto, e c'è un bellissimo libro di Joseph Nye, Bounding to Lead, come cambia la natura del potere americano, che gli americani cominciano a pensare che c'è bisogno di iniziative audaci. E che cos'è la guerra in Ucraina? E io sono d'accordo con Jeffrey Sachs, l'ultima tappa di un movimento trentennale di neocon, che come hanno lavorato con la destra repubblicana così lavorano con Biden. Con la guerra in Ucraina, tra parentesi c'è questa coincidenza dove nessuno si è soffermato, ma ci dovremmo soffermare, ritiro frettoloso dall'Afghanistan quando c'era un accordo e poteva esserci un ritiro ordinato, accordo firmato da Trump, arriva Biden, debacle in Afghanistan e tutta la concentrazione in Ucraina. Ora, che cosa si potrebbe fare oggi? Beh, ci sarebbe bisogno di un'Europa, di una vecchia Europa. Di una vecchia Europa che ritrova i propri interessi, perché sono gli interessi d'Italia, Francia e Germania che sono veramente colpiti e poi seguono il Belgio, il Lussemburgo, la Spagna e il Portogallo, ma è questa Europa continentale che è stata tradita dall'elite europee. E quindi i popoli dovrebbero capire che guerra in Ucraina li tocca da vicino e quindi si dovrebbe poter sperare in un'Europa che pur restando nell'alleanza atlantica si dissocia da una strategia, io la chiamo dell'atlantismo muscolare, una strategia in cui l'America, per mantenere lo scettro del potere nel momento in cui la globalizzazione ha portato al sorgere dei BRICS, come sappiamo, quindi a una distribuzione del potere economico diverso. Guardate che molti avevano preconizzato un sorpasso della Cina nel 2050 dell'America. Ecco, di fronte a questa situazione l'America ha deciso di utilizzare l'unico potere veramente, dove c'ha veramente una supremazia evidente, che è quello militare. E quindi prima la Russia come anello debole delle potenze del surplus per poi concentrarsi sulla Cina. Una strategia che a me e a voi, sono sicuro, sembra demenziale e pericolosa. E quindi l'Unione Europea dovrebbe ritornare alla politica, alla diplomazia, all'accettazione di un mondo multipolare. Forse sto parlando tantissimo e chiedo scusa. No, direi che c'è un ottimo lancio, diciamo, di passaggio di palla a quello che, per come volevo in qualche modo, coinvolgere Barbara in questa discussione. Perché, insomma, prima di essere europarlamentare ti sei occupata delle dinamiche dell'Europa per anni, abbiamo letto e abbiamo imparato dalle tue osservazioni e dalle tue analisi. Quindi, questo aspetto del ruolo di queste strutture occidentali credo che sia molto importante da seguire. In particolare, il mutato nel tempo ruolo della Nato colpisce che l'altro ieri, ovviamente solo il fatto quotidiano ha dato risalto alla dichiarazione di Stoltenberg, per cui si è rivendicato un anno dopo, ma noi quelli vogliono trattare con noi, ma noi col cavolo, con loro non trattiamo. E colpisce però la sicumera, l'arroganza, il fatto stesso di smentire quello che è stata la linea, in qualche modo anche la narrazione fatta fino adesso, il problema sono solo loro e noi invece non abbiamo nessuna colpa, colpisce questo modo molto arrogante di presentarsi. Quindi quello che ti volevo un po', su cui ti volevo sollecitare è questo ruolo occidentale, questo rapporto strano tra l'Europa e gli Stati Uniti, come è evoluto nel tempo, come lo vedi e che influenza ha avuto anche poi nella nostra vita quotidiana, le nostre politiche nazionali e il nostro dibattito nazionale. E' aperto, sì. Ma come prima cosa vorrei dire che quando si dice cosa fa l'Europa, cosa ci aspettiamo dall'Europa, non è un ente unitario, è completamente spaccata e addirittura sfasciata. Perché un'Europa che ai vertici dell'Unione Europea, ai vertici federali dell'Unione Europea che sono la Commissione e i vari commissari, se li si sente parlare sembrano farneticazioni o gesti servili verso la nata e verso gli Stati Uniti. Io non so se voi avete sentito parlare il rappresentante per la politica estera europea, il famigerato socialista Borrell. Le cose che ha detto in questo anno e mezzo non sono intollerabili, sono dementi. Intanto ha descritto l'Europa come un bellissimo giardino, non so dove lo vede questo giardino, circondato da una giungla che è pronta ad invaderci. Questo è il rappresentante della politica estera europea, socialista. L'altra cosa che ha detto recentemente è che la Russia questa guerra l'ha già persa. È interessante che lo dica perché se a un certo punto si arriva a un accordo, io non credo a un accordo di pace, ma a un accordo tipo coreano, a una tregua, a una lunga tregua, non penso proprio che si possa dire che la Russia ha perso, perché la Russia ha ottenuto quello che voleva, cioè più sicurezza al proprio confine. Ma non si è limitato a dire il signor Borrell che la Russia ha già perso. Ha aggiunto che la Russia è un nano politico e è poco più che, cito, un distributore di benzina il cui proprietario è possiede la bomba atomica. Ora questo è un personaggio da fumetto. Cioè da una parte abbiamo gli Stati Uniti che manovrano questa guerra chiaramente e la faranno finire quando lo vogliono loro. E dall'altra abbiamo questa specie di burattino europeo che ogni tanto si alza e dice cavolate. Questa è l'Europa. Io non credo che siamo in un momento in cui la vecchia Europa può alzare la testa e dire grandi cose. Purtroppo non lo credo. Non credo nemmeno alla soluzione di Draghi, cioè un'Europa federale che organizza meglio questa situazione così difficile, dice lui, a causa della guerra. Cioè una guerra che lui ha approvato fin dall'inizio e adesso per l'Europa si tratta di gestirla meglio. Non si sa bene in che modo e con chi, visto che l'Europa è molto divisa. Ma aggiungerei una cosa alle responsabilità europee. Le responsabilità europee sono, vabbè, questo è l'aspetto grottesco, ma la cosa è molto più grave ed è una specie di ignoranza totale dei fatti. Un'ignoranza militante. Non c'è cosa peggiore in politica o nella vita anche normale, privata che l'ignoranza militante. E così, ignorante militante, l'Europa non ha fatto nulla quando poteva e si poteva fare qualcosa. Perché, primo, questa guerra poteva essere evitata. Io, nei giorni scorsi, preparandomi a questo incontro, mi sono andata a vedere tutte le dichiarazioni pubbliche di Putin, compreso l'incontro con Biden poco prima dell'inizio dell'operazione speciale. E Putin insisteva sempre su un punto, nella neutralità ucraina e gli accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk non sono la Russia che si mangia il Donbass, sono una cosa elementare che dà il rispetto delle minoranze che esistono in un paese. Una minoranza enorme in Ucraina di russofoni. Fino a qualche settimana prima, Putin continuava a dire neutralità e rispetto delle minoranze, come da Minsk, accordi non rispettati dell'Ucraina. L'Europa ha questa azione, in questo senso di ascolto e di prevenzione della guerra, non è stata capace di portarla avanti. E perché non è stata capace? Perché fin da quando l'Unione Europea ha iniziato l'allargamento a Est, era allora credo il commissario e presidente della commissione Prodi, fin da allora non ha mai posto il problema, che è fondamentale, delle minoranze della diaspora russa che c'era in una serie di paesi candidati a entrare nell'Unione oppure già entrati. Questa sottovalutazione di questa diaspora russa di 25 milioni, che è una spina in fianco per il governo russo, non è stato completamente sottovalutato. Allora in Russia tutti sappiamo che nel Donbass la russofonia è stata schiacciata, cioè la lingua russa è stata declassata, ma non sappiamo abbastanza bene che tutti e tre i paesi baltici hanno fortissime minoranze russe, intorno tra il 20 e il 25% delle popolazioni, e che vengono trattate esattamente come sono trattati i russofoni del Donbass. E questo l'Europa l'ha accettato, pensando che tanto la Russia è giusto un distributore di benzina, lo sappiamo, chi ha la bomba atomica. La seconda ignoranza abissale dei fatti e irresponsabilità dell'Europa è poco dopo l'inizio dell'operazione speciale. Lo chiamo operazione speciale, non perché me l'ha detto Putin al telefono. Sì, io sono considerata Putiniana. Esatto. Non solo, ma i Putiniani sono una maggioranza in tutti i paesi, perché come ci sarai accorto, tutti i cheerleaders o le ragazze pompon che sostengono gli Stati Uniti e la Nata in questa guerra, hanno un comportamento come se fossero delle minoranze perseguitate. Si sentono sempre attaccati, ma come se noi che la pensiamo, noi del fatto praticamente, avessimo quattro armate pronte a invadere l'Italia. Ma veramente fa impressione questo. La seconda cosa che volevo dire, poi magari smetto, la seconda cosa che volevo dire è come si è comportata l'Europa, diciamo, come non si è comportata perché era inesistente, poche settimane dopo l'inizio dell'operazione speciale. No, ripeto che dico operazione speciale non perché sono Putiniana, ma perché se i russi mobilitano veramente avremmo molto peggio di quello che sta succedendo. Allora, vabbè, operazione o guerra, poche settimane dopo, le trattative tra Kiev e Mosca vanno avanti e si concludono su una bozza di accordo che prevede la neutralità dell'Ucraina e garanzie di sicurezza da parte di una serie di paesi per l'Ucraina. Quindi Zelensky allora era pronto a rinunciare all'ingresso alla Nato. Lo aveva accettato. Putin ha confermato questo mostrando la bozza in un recente incontro con i dirigenti africani a Mosca. In questa occasione è stata completamente persa perché Boris Johnson si è precipitato a Kiev dicendo ma siete mati? Qua se la guerra deve continuare. Ed è allora gli Stati Uniti e la Nato hanno fatto sapere a Kiev che la bozza di accordo era carta straccia e che gli ucraini dovevano continuare a morire perché questo era negli interessi dell'espansione della Nato e dell'espansione della Nato e dell'indebolimento della Russia. Io non so, io finisco, ma non so a questo punto chi può, chi sinceramente, ditemelo voi, può ancora dire che questa non è una guerra per procura. Lo chiediamo a un altro dei putiniani che abbiamo qua per caso. Allora cosa mi vuoi chiedere? Se non è una guerra per procura. È chiaramente una guerra per procura. Io però vorrei dire questo, che la guerra è andata avanti nel marzo del 2022 quando c'era la possibilità di arrestarla. Sto parlando degli accordi prima stretti, diciamo così, prima accettati da Zelensky e da Putin e poi fatti saltare da Johnson e da Biden. Le ragioni sono state numerose. Ma una delle più importanti, di cui non si è detto in Italia, è che c'era un problema di tempi dell'assorbimento della Svezia e della Finlandia nella Nato. Che cosa significa? Significa che un eventuale accordo nel marzo del 2022 avrebbe quasi certamente compromesso l'ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato e quindi il passaggio della Nato da 30 membri a 32 membri. Perché l'unica cosa che conti davvero per Biden e per Stoltenberg non è l'Ucraina, bensì l'Ucraina in funzione dell'espansione della Nato. Quindi Biden e Stoltenberg, o se preferite la Nato, che sono la stessa cosa, avevano davanti a sé due strade per l'espansione della Nato. La prima è quella che è stata tentata infruttuosamente, vale a dire l'assorbimento dell'Ucraina nella Nato per passare da 30 a 31 membri. Fallita questa strada, gli Stati Uniti hanno avuto la possibilità di raddoppiare sfruttando la guerra in Ucraina per assicurarsi un ingresso molto rapido della Svezia e della Finlandia nella Nato, estendendo così impressionantemente il confine della Nato con la Russia che con la Finlandia supera i mille chilometri. In estrema sintesi, in quella circostanza storica particolare, gli argomenti che hanno prevalso sono stati molteplici, che tutte le volte che bisogna spiegare un fenomeno stoico complesso inevitabilmente le cause sono sempre più d'una. Una è quella che ho indicato adesso, quindi il massacro del popolo ucraino per dare tempo alla Nato di assorbire anche Svezia e Finlandia, che tutto richiede una serie di passaggi e di ratifiche da parte dei parlamenti, tanto più che la Turchia aveva creato una serie di problemi c'era il pericolo che questa ulteriore espansione est della Nato avrebbe subito dei ritardi a causa della posizione di Erdogan. Prima di dirvi quali siano state le altre ragioni che hanno portato al collasso di quella trattativa devo ricordare una circostanza importantissima, e cioè che dopo l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato ho detto alcuni giorni dopo, alcune settimane dopo, che Jensen, il capo di gabinetto di Stoltenberg rilascia una dichiarazione che suona come segue uno dei modi possibili di chiudere questa guerra è che l'Ucraina ceda territorio alla Russia e non è soltanto Jensen che rilascia questa dichiarazione, ma, e mi scuso moltissimo con tutti e con il ministro Crosetto nel caso in cui abbia a dire qualcosa di impreciso, ma vado a memoria mi sembra che anche Crosetto rilasciò un'intervista al Corriere della Sera in cui faceva un'apertura di questo tipo però non sono sicuro, quindi lo dico e mi scuso nel caso in cui questo riferimento fosse impreciso si potrà rispondere già domani ok, ok, ok e non è soltanto, quindi diciamo su Crosetto metto un punto interrogativo così per una questione di correttezza, perché prima di intervenire non ho rivisto la fonte l'intervista al Corriere della Sera, quindi non posso dirlo con certezza assoluta quindi diciamo, sospendo la posizione di Crosetto però è soltanto dopo l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato che Jensen rilascia quella dichiarazione e non è soltanto Jensen a ipotizzare negli ambienti che contano che la guerra possa essere chiusa con un accordo che preveda cessione di territori alla Russia perché? perché nella prospettiva cinica e disumana del blocco occidentale l'Ucraina sta perdendo importanza la seconda ragione per cui la guerra in Ucraina inizia a perdere importanza agli occhi della Casa Bianca è che la Casa Bianca ha già portato a casa un risultato che richiedeva che la guerra si prolungasse per un certo numero di mesi, vale a dire la cesura tra la Russia e l'Europa più in particolare tra la Russia e la Germania perché una delle prospettive che maggiormente atterriscono o meglio che maggiormente atterrivano la Casa Bianca era che potesse nascere un'alleanza prima energetica attraverso i gasdotti poi anche politica tra la Germania e la Russia che avrebbe messo in pericolo il predominio degli Stati Uniti sull'Europa la terza ragione per cui gli accordi sono saltati vedete qui quella che Max Weber chiama la molteplicità delle cause così dice la costellazione delle cause quando spieghiamo un fenomeno storico un'altra ragione molto importante a che vedere con la Cina perché in questo momento in Ucraina si stanno svolgendo due guerre una guerra potenziale a Taiwan è una guerra reale con la Russia in Ucraina che cosa significa? significa che gli Stati Uniti interpretano la guerra in Ucraina in funzione della guerra potenziale con la Cina su Taiwan allo stesso modo l'analisi dei documenti che contano dell'establishment cinese ci dicono che la Cina interpreta la guerra in Ucraina come il primo tempo della guerra per Taiwan e questa è la ragione per cui la Cina non ha condannato la Russia per aver invaso l'Ucraina è la ragione per cui Xi Jinping ha attribuito la causa di questa guerra alla Nato è la ragione per cui scoppiata la guerra a differenza di quello che i media dominanti in Italia avevano previsto la Cina si è legata sempre più strettamente alla Russia è la ragione per cui con un'invasione in corso la Cina ha svolto un'esercitazione militare con la Russia in Sudafrica perché la Cina si aspetta un aiuto da parte della Russia nel momento in cui scoppiasse una guerra con gli Stati Uniti per Taiwan ed è anche la ragione, questa è la mia ipotesi, la mia previsione che se la Russia dovesse trovarsi in una condizione disperata le probabilità che la Cina entrerebbe in guerra a fianco della Russia sarebbero molto alte perché la Cina non può per alcun motivo al mondo permettere alla Russia di perdere la guerra in Ucraina perché significherebbe avere posto le premesse per la sconfitta della guerra potenziale su Taiwan quindi come vedete l'intreccio delle cause è molto complesso gli Stati Uniti hanno ritenuto che se avessero stretto un accordo con la Russia a marzo avrebbero lanciato un messaggio, un segnale di debolezza alla Cina in previsione di un'eventuale invasione cinese di Taiwan a questo punto veniamo alla seconda domanda perché le scienze sociali, Max Weber diceva che una spiegazione è veramente scientifica soltanto se è una spiegazione causale quindi dobbiamo rispondere a una domanda ed è questa che è collegata a quello che vi ho detto finora perché l'Europa agisce in questo modo? perché la Commissione Europea può essere definita un gruppo di servi della Casa Bianca perché l'analisi dei documenti scritti perché l'analisi dei documenti scritti consente di affermare che la Commissione Europea è un gruppo di servi della Casa Bianca perché la documentazione scritta mostra che la Commissione Europea sta facendo delle politiche anti-europee infatti l'economia europea soffre tragicamente come conseguenza di ciò l'economia italiana soffre tragicamente come conseguenza di ciò il meridione d'Italia soffre tragicamente io sono un po' meridionalista perché sono napoletano quindi mi preoccupo sempre del meridione ma chiunque ami il meridione in Italia ama anche il settentrione perché se collassa il settentrione collassa anche il meridione a questo punto devo rispondere a questa domanda perché finora noi l'abbiamo denunciato moralmente ma non l'abbiamo spiegato causalmente cioè noi denunciamo moralmente il comportamento della Commissione Europea che sulla base della documentazione scritta consente di affermare cioè la documentazione scritta consente di affermare sono un gruppo di servi della Casa Bianca che fanno politiche anti-europee quindi entriamo nella spiegazione delle cause perché si verifica questo fenomeno e anche in questo caso le risposte alle cause sono molteplici quindi io per motivi di tempo mi soffermerò soltanto su una di queste e la ragione ha a che vedere con i meccanismi di cooptazione e di riproduzione del potere politico in seno all'Unione Europea significa questo che siccome gli incarichi che contano non passano attraverso il voto dei cittadini quello che conta per Ursula von der Leyen per diventare da ministro della difesa tedesco a presidente della Commissione Europea è comportarsi come una serva di Biden perché quello è un incarico che viene dato per cooptazione dalla Casa Bianca e siccome probabilmente Ursula von der Leyen non l'ha mai smentito ambisce a diventare il prossimo segretario generale della Nato il meccanismo della riproduzione del potere per cooptazione le fornisce degli incentivi molto grandi a comportarsi come una serva di Biden e qui concludo con il fatto quotidiano perché molti e questo non riguarda soltanto riguarda anche Borrella riguarda tutti coloro che ci guidano che ci guidano cioè la Commissione Europea che fa politiche contro l'Europa che fa politiche contro di noi quindi la domanda è perché agiscono in questo modo e la risposta principale è questa perché sono tutti preoccupati delle loro carriere individuali e le loro carriere individuali dipendono dalla Casa Bianca perché non si vota non si passa attraverso il consenso popolare questo meccanismo della cooptazione produce un'ondata spaventosa di corruzione infatti nella mia prospettiva che è una prospettiva paretiana io sono stato molto influenzato da Alfredo Pareto non posso spiegarvi in che senso ma io definisco l'Unione Europea come un'organizzazione corrotta dalla testa ai piedi per questi suoi comportamenti ma non posso spiegare per motivi di tempo che cosa si intenda per corruzione nel linguaggio di Alfredo Pareto ma sostanzialmente che è una classe dirigente declinante che sta morendo che ha cessato di svolgere le sue funzioni vitali e arrivo al fatto quotidiano perché molti si sono domandati prima di me anche alla Spinelli giustamente acutamente diceva ma come è possibile che noi siamo un gruppo relativamente ristretto rispetto ai media dominanti e hanno così tanta paura di me vi faccio vedere come le tre parti del mio discorso siano concatenate perché la risposta che vi darò adesso si comprende con riferimento alla seconda parte del mio discorso la risposta è questa perché il meccanismo della riproduzione del potere in maniera clientelare attraverso la cooptazione ha creato una distanza enorme tra il popolo e i cittadini e i corrotti che guidano l'Unione Europea quindi siccome loro sanno che la maggioranza assoluta degli italiani il 50% degli italiani è contro le politiche anti-europee dell'Unione Europea e siccome sanno che se passassero attraverso le libere elezioni Ursula von der Leyen non prenderebbe nemmeno un voto sono atterriti dalle persone che dicono le cose che noi diciamo o dalle persone come il fatto quotidiano perché rappresentano la maggioranza assoluta degli elettori e questo spiega perché loro abbiano scatenato una campagna di demonizzazione nei confronti delle persone che rappresentano i fatti in maniera fedele sulla base della documentazione scritta e la documentazione scritta dice inequivocabilmente che la guerra in Ucraina è scoppiata principalmente a causa dell'espansione della NATO in quel paese e Salvatore Cannavò al merito di aver scritto un articolo bellissimo e molto importante anche per noi studiosi uscito ieri relativo alle ridichiarazioni che Stottenberg ha rilasciato davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato del Parlamento Europeo in cui ha detto candidamente quello che ho detto sin dal primo giorno di guerra parole per le quali io sono stato violentemente diffamato e calunniato Stottenberg ha detto che la ragione per cui è scoppiata la guerra in Ucraina è stata il fatto che la NATO si sia rifiutata di trattare con Putin Putin ha presentato un documento il 15 dicembre del 2021 in cui chiedeva la NATO di dare garanzie che l'Ucraina non sarebbe stata assorbita nell'alleanza atlantica e Stottenberg ha risposto noi ci siamo rifiutati drasticamente di avviare qualunque tipo di dialogo con la Russia e la Russia come conseguenza di ciò ha invaso l'Ucraina qui mi sembra che il cerchio si chiuda perfettamente anche perché in Europa per l'Europa si vota l'anno prossimo cioè tra qualche mese in realtà e questo bisogna capire se poi potrà riaprire qualcosa ma io volevo chiedere al generale Mini ci rivediamo anche qui per l'anno prossimo con uno o due guerre? ci veniamo qui con una una prospettiva rosa cioè nel senso che prima o poi tutta questa gente che sta facendo le manovre e tutti gli arzigogoli che il professore ha citato perché un evento la causa tutte queste questa gente sarà poi si dovrà confrontare con quella che è la realtà la realtà in Ucraina è un paese in via d'estinzione addirittura i russi già dicono che l'Ucraina non esiste più ma comunque noi la stiamo vedendo in via d'estinzione stiamo vedendo in via d'estinzione anche la nuova Europa attenzione perché la vecchia Europa forse è finita ma la nuova Europa io ho sempre detto attenzione quando entreranno veramente in Europa o comunque anche nella Nato soprattutto nella Nato Svezia e Finlandia loro che sono insieme agli altri stati baltici i più vicini alla minaccia russa nel momento in cui si rendono conto che la loro appartenenza alla Nato è il motivo della minaccia in maniera attiva guardate che hanno quattro dita di pelo sul cervello questi degli stati baltici i finlandesi non a caso occupano da ormai da 30 anni tutti i posti chiave delle organizzazioni internazionali tutti i posti chiave voi da lì ci trovate un finlandese e ci trovate un finlandese che è lì perché la Finlandia era neutrale ci trovate uno svedese perché la Svezia era neutrale nel momento in cui questi non sono più neutrali perché fanno parte della Nato mi sapete dire che cosa altro possono pretendere niente ma saranno proprio questi paesi io lo vedo nel futuro con la palla di vetro che che Marco Travaglio mi attribuisce o il cannocchiale col cannocchiale io vedo che ci saranno proprio questi paesi che si rivolteranno contro la logica che quella la logica come è stato ribadito egemonica degli Stati Uniti ma è un'egemonia in via di estinzione anche quella tre quarti del mondo sono contro questa egemonia si è parlato di si è parlato di multipolarità io vorrei correggere soltanto il termine non per motivi grammaticali guardate multipolarità significa che ci sono molti poli i poli sono dei punti e a questi poli fanno riferimento varie forze bene attenzione quello che il terzo mondo o quarto mondo vuole non è una multipolarità non ha bisogno di altri poli il polo nord il polo sud hanno bisogno di paesi come ha detto il presidente dell'Unione del Sud Africa alla fine della riunione dei Brics abbiamo bisogno di un rapporto internazionale fra paesi uguali paritetico di paesi che continuo per quello che sono non per quello che viene attribuito loro come marionette quindi questa multilateralità che verrà avanti e andrà avanti molto una nota soltanto a livello personale perché il professor Orsini giustamente ha messo in evidenza che queste nostre posizioni sono poi prese non mi sono mai sentito crocifisso vi dico la verità mai le critiche che ci sono state quando sono state critiche assennate le ho sempre accettate e anzi qualche volta ho anche cambiato direzione le critiche che sono stupide sono stupide non è non è attenzione in questo mese o due mesi tre mesi quanti sono dalla uscita del libro così come la uscita anche del primo libro in corroborazione con Franco Cardini io ho girato un po' in giro per l'Italia guardate la posizione italiana nei confronti della guerra è quella che c'è qui oggi e c'è quella che c'è qui oggi e c'è in tutta Italia in tutta Italia vi dico anche in tutta Italia in tutta Italia e all'estero perché anche a San Marino vedono la stessa cosa come la vediamo noi grazie volevo chiedere brevemente anche all'ambasciatrice Basile il Vaticano se no il Vaticano no no non mischiamoci con le cose sante ok quanto può pesare il voto europeo su non so quanto direi il cambiamento di mentalità o almeno sugli equilibri visto il legame che c'è tra l'Unione Europea e la Nato diciamo il legame in negativo in un minuto in un minuto facciamo un minuto anche Barbara e un minuto un minuto e mezzo no conoscendomi no io volevo dire no è difficile essere ottimisti è difficile pensare perché è vero che forse c'è una maggioranza contro la guerra però è anche vero che questa maggioranza non si esprime altrimenti non avremmo un governo di destra estrema e di centro che è così filo americano e guerra fondaio come del resto lo era prima il Partito Democratico al governo quindi c'è una maggioranza ma per per i meccanismi che sono stati già accennati dal professore Orsini ma che conosciamo bene noi siamo nell'ambito di un impero e non solo un diplomatico che vuole far carriera non solo un politico che vuole far carriera diciamo chiunque voglia salvaguardare un certo tipo di immagine e di reputazione deve conformarsi al pensiero della maggioranza un pensiero che ormai chiamiamo unico perché c'è uno spazio mediatico e politico che è completamente uniformato io devo dire che c'è stato un momento in cui pensavo che ci sarebbe stato un armistizio perché tutti gli obiettivi degli Stati Uniti erano stati in fondo raggiunti obiettivi energetici il gas russo non è più un problema obiettivi la fame del complesso industriale militare un'Europa vassalla che addio non è che si possa parlare di autonomia strategica o di Europa della difesa oggi e da ragione Barbara Spinelli forse questa Europa non è mai esistita cioè non c'è un soggetto vero questa Europa federale che molti di noi io stessa eh quando ero ambasciatrice a Bruxelles credevo in un certo tipo di di sogno federale dell'Europa però perché eh questo armistizio questa frontiera coreana forse non si aprirà innanzitutto perché i russi non credo che permetteranno una tregua un cessate il fuoco per far sì che l'Occidente eh produca le munizioni che oggi solo il problema debole quindi c'è già una resistenza russa ma fondamentalmente l'Occidente ha fatto un investimento di 101 miliardi l'ultimo promesso da Blinken quando è andato a Kiev un Occidente che ha investito tanto in armi gli F-16 le bombe a grappolo che sono state promesse ultimamente come potrebbe credere in un armistizio io credo che purtroppo la guerra andrà avanti a meno che e perciò mi richiamavo dotato all'Europa ma alla vecchia Europa se il se prima si diceva se la recessione se la crisi economica comincia a mordere beh è vero che le nostre elite sono interessate a rimanere al potere grazie al consenso americano però sono anche interessate ad andare al potere ed ecco ritorniamo al voto insomma con il proprio consenso Barbara ma c'è una speranza una possibilità di una risorsa in questa società civile in questa vita cioè noi siamo abituati a un paese dove il pacifismo c'è stato e anche in questa guerra abbiamo dimostrato anche una certa vivacità tu su questa mondo pensi che si possa scommettere si possono essere delle risorse su cui investire oppure dobbiamo essere condannati a un pessimismo in qualche modo cosmico in questo caso la parola è obbligata vista la portata della guerra anche te un minuto ma io penso che non è che il problema non è se possiamo contare su forze contraria alla guerra contraria all'invio di armi non abbiamo altra scelta che questa cioè è come se nel giornale nel fatto ci dicessimo ma noi possiamo esprimere un nostro giudizio su questa guerra che è completamente sbagliata nella maniera in cui si prosegue e non abbiamo altro cioè questo è quello che pensiamo e quindi il giornale si fa intorno a queste idee e le elezioni europee dovrebbero nelle elezioni europee non posso far altro che sperare che ci siano forze che esprimano un'opinione su eh su questa guerra io vorrei anche dire che condivido quello che ha detto il generale Emmini che il multipolarismo sta andando avanti e questa è una cosa che dovrebbe darci forza speranze sta andando avanti non solo perché c'è questa questa associazione questa specie di ente BRICS che si sta allargando e che e che rappresenta un mondo di non allineati molto forte economicamente e militarmente ma non solo per questo ma anche perché in Africa perché non abbiamo parlato dell'Africa ma l'Occidente e la Francia in prima linea sta prendendo delle sberle in faccia in tutta la zona del Sahel che sono sberle in faccia a tutta la politica africana dell'Unione perché la Francia poi a un certo punto ha chiesto l'appoggio dell'Unione nelle sue missioni Barkhane e le successive stiamo gli articoli che leggo in genere dei giornali mainstream sull'Africa dicono sempre che ha l'Africa in mano alla Cina e alla Russia e quindi per forza siamo in minoranza sempre questo senso di essere in minoranza no ci sono dei motivi per cui stiamo perdendo l'Africa e i motivi per cui stiamo perdendo una serie di paesi del Sahel dal Gabon al Mali al Chad tutti è essenzialmente il risultato della guerra che abbiamo fatto in Libia perché non ci sarebbe questa tremenda destabilizzazione avanzata di forze di mercenari musulmani non ci sarebbe se non avessimo sfasciato il regime di Gheddafi che teneva in mano controllava queste situazioni i Tuareg che sono diventati le forze sovversive in tutti i paesi del Sahel sono erano tutte in Libia ed erano controllate finanziate sovvenzionate da Gheddafi quindi noi abbiamo responsabilità enormi e adesso l'Europa ci caccia a pedate l'Africa allora questa non è sì non è finisco subito non è negativo perché forse forse l'Europa capirà qualcosa e sì quindi no 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 è che stavo accordando per l'ultimissima domanda la più difficile ad Alessandro se rivince Trump finisce la guerra di credo di no nel senso che questo è una secondo me una tesi molto ottimistica assolutamente dominante ma credo che il problema sia più complesso perché primo luogo se noi guardiamo i documenti i dati vediamo che l'invio grosso di armi e stiamo applaudendo alla maglietta su Fria Sanche l'invio grosso di armi all'Ucraina è iniziato proprio sotto Trump e la seconda ragione è che Trump aveva come linea di politica estera quello di avvicinarsi alla Russia per colpire la Cina quindi Trump non è detto non sono così sicuro che se vincesse le elezioni ritirerebbe gli aiuti diciamo smetterebbe di armare l'Ucraina così pesantemente per indurre Zelensky alla moderazione perché potrebbe anche Trump pensare che questo sia un cedimento agli occhi della Cina quindi diciamo che non ho una risposta certa su questo ma quantomeno aprirei un'altra prospettiva e prenderei in considerazione la possibilità che un Trump vittorioso non ponga fino alla guerra in Ucraina nel senso che non do per scontato che questo avvenga e inoltre non posso darlo per scontato perché da qui alle elezioni in Ucraina può accadere qualunque tipo di tragedia quindi dare una risposta alla tua domanda da un punto di vista previsionale è ancora più difficile perché da qui alle prossime elezioni interverranno altri fattori che potrebbero alterare tutta la situazione in Ucraina era una provocazione la cosa divertente si può dire di quello che è successo in Italia questo è un argomento con cui vorrei chiudere ma prometto che mi intrattengo per pochi secondi quando ne parliamo della guerra in Ucraina del perché il fatto sia stato così duramente attaccato e molto a che vedere con il rapporto che il nostro paese ha con la scienza quindi una ragione molto profonda che va indagata perché è culturale durante il covid i media dominanti Corriere della Sera la Repubblica la Stampa e altri hanno avviato un processo di sacralizzazione della scienza cioè proprio la documentazione scritta ci mostra in maniera molto nitida che l'uomo con il camice bianco era equiparato a Gesù Cristo cioè sostanzialmente la tesi dominante era questa esistono delle persone infallibili che sono gli scienziati e chiunque si opponga alle verità degli scienziati deve essere violentamente insultato diffamato calunniato addirittura licenziato quindi durante il covid noi abbiamo vissuto questa fase molto importante nella storia dell'Italia Repubblicana in cui quei media dominanti hanno avvalorato questa tesi cioè che esiste davvero un dio e questo dio è la scienza quando io sono andato in televisione si chiudo quando io sono andato in televisione abbiamo il prossimo dibattito in qualche modo io ho spiazzato tutti questo spiega molto dell'odio nei miei confronti perché io rappresentavo la scienza sociale accreditato da tanti anni come consulente uno dei consulenti di punta della presenza del consiglio del ministro della difesa del ministro degli affari esteri ho lavorato come consulente sull'Ucraina per le più importanti multinazionali del mondo quindi sono arrivato in televisione ho detto guardate ho condotto una ricerca scientifica e questa ricerca scientifica dice che la cosa principale della guerra è l'espansione della Nato in Ucraina è una delle ragioni della campagna di demonizzazione molto culturale allora Corriere della Sera non potendo smentire la narrazione precedente secondo cui la scienza è Dio e Dio è la scienza ha dovuto dire l'unico modo che ne abbiamo di risolvere questo problema è dire che Orsini è un criminale è così tutti gli altri quotidiani perché non potevano mettere in discussione l'infallibilità di una ricerca scientifica è l'unica scienza è l'unica scienza e quindi questo secondo me deve molto far riflettere sui limiti culturali del nostro paese grazie perdonatevi questa parte così cattiva di dovervi bloccare ma ecco come vedete stanno entrando i nostri colleghi per il prossimo dibattito grazie Molille per questa discussione siamo noi cattivi grazie a voi e continuerà sulle pagine Il Fatto Quotidiano ovviamente e grazie anche a Salvatore Cannavoi e a Stefano Citati grazie ai nostri ospiti noi siamo i cattivi perché abbiamo i tempi strettissimi oggi il tempo di un caffè per il prossimo dibattito pochissimi minuti e siamo pronti con il prossimo dibattito dal titolo a che punto è la giustizia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti